se voglio riservare un colloquio individuale al tutore genitore di un singolo studente clicco sull'icona colloqui cerco il colloquio individuale che voglio riservare e clicco sull'icona gialla controllo la data controllo l'ora di inizio che posso modificare posso modificare anche la durata volendo su all'unni comincio a digitare il cognome dello studente scelgo lo studente desiderato devo avere cura e premura di mettere la spunta sull'opzione invia conferma colloquio ai tutori delle allunni associati se voglio posso scrivere delle eventuali annotazioni scelgo scelgo